Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV, apriamo con la cronaca un furto questa notte in una gioielleria il ladro si era addirittura nascosto in un cassonetto ma grazie all'allarme lanciato dai vicini di casa e poi soprattutto l'intervento della polizia è stato arrestato. Stanotte sono stato svegliato da una chiamata di mia sorella dove mi diceva che l'aveva contattata la polizia perché ci stavano spaccando la vetrina della gioielleria. Prima ha spaccato una vetrina poi ha fatto razzia di preziosi ed infine ha tentato di nascondersi dentro ad un cassonetto ma è stato arrestato dalla polizia di Stato. È successo nella notte nella centrale via Crispi ad Arezzo. Tutte le notti alla fine non dormo più perché tra l'altro qui suona l'allarme, di là suona l'allarme, di quell'altro negozio suona l'allarme, fa una turno e si farà così, è una giostra. Il ladro si è canito contro questa vetrina anche ferendosi ma i forti rumori hanno insospettito alcuni residenti che hanno allertato le forze dell'ordine. Al loro arrivo i poliziotti lo hanno trovato nascosto all'interno di un cassonetto dell'immondizia a poche centinaia di metri. Sentiva il tonfo, chiaramente le quattro di notte i rumori si sentono che non c'è nessuno in giro e si è affacciato alla finestra, visto questo tutto vestito di nero, incappucciato che prendeva la roba della vetrina come bere un bicchier d'acqua. Il ladro quando è stato ritrovato aveva ancora con sé la refurtiva dal valore di qualche migliaio di euro che è stata subito recuperata. È stato arrestato per furto aggravato, sarà giudicato per direttissima. Ci si sente sempre peggio perché, ti dico la verità, ho cambiato zona perché la gelilleria prima ce l'avevo in via Giuseppe Verdi e era diventata invivibile perché tra i porcinaio di piazza Risorgimento c'era un via vai di qualsiasi benedetta cosa. C'erano le coltellate tutte le sere, tutte le sere. Io non potevo più tenere un negozio di questo target qui in quella zona, quindi ho detto spostiamoci in una zona un pochino più tranquilla, ma evidentemente anche qui forse forse tanto tranquilla non è. E allora l'arresto è stato convalidato appunto per l'uomo ritenuto responsabile del furto e per lui è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Si chiamava Sandro Stentella, l'uomo di 55 anni che ha perso la vita ieri in un incidente sul lavoro nelle campagne al confine tra le province di Arezzo e Perugia. Faceva l'imprenditore agricolo, era residente nel comune di Terni, lascia la moglie e tre figli. La tragedia è avvenuta in località Ferretto, frazione a cavallo, fra i comuni di Cortona e Castiglione del Lago. L'uomo è stato investito con un muletto guidato da un collega mentre i due stavano scaricando sacchi di concime. Il macchinario è stato sequestrato, la salma è adesso a disposizione della magistratura perugina che ha aperto un'inchiesta su quanto accaduto. Avevano rubato delle maglie da calcio ma sono stati intercettati e denunciati e le maglie restituite. Avevano rubato tutte le maglie da gioco del Montevarchi la notte prima della trasferta ma sono stati scoperti e denunciati dalla polizia di Stato. Ad accorgersi del furto lo staff della società sportiva che il giorno prima aveva già preparato ed imbustato il materiale tecnico in vista della partita. Ma la domenica mattina mancava tutto, sette di maglie, calzoncini, calzettoni e giubbotti tecnici dei calciatori, nonché la fascia di capitano e del gaiardetto ufficiale della società. La dirigenza a rosso-blu ha quindi sporto denuncia al commissariato di Montevarchi e la squadra scesa in campo con le maglie e calzettoni di riserva. I poliziotti hanno subito dato avvio alla indagine e ricostruito la dinamica del furto. I ladri si sarebbero introdotti nell'impianto sportivo facendo la zia delle difese da gioco ed arresto già stipato nel furgone della società il sabato sera per poi darsi alla fuga. La procura ha anche disposto la perquisizione a carico del maggior indiziato e sono così saltate fuori la maggior parte delle maglie. Altro materiale è stato invece ritrovato poco dopo nelle disponibilità di un'altra persona indagata anche lei per furto. La refurtiva infine è stata restituita alla società rosso-blu. Perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada. L'episodio si è verificato questa mattina poco prima delle 10 a Neri, frazione del comune di Cavriglia. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia municipale, appunto un ottantenne alla guida di un'auto ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. Dall'uomo è stato poi soccorso dai sanitari e trasportato con l'eli soccorso all'ospedale delle scotte di Siena in codice rosso. Una stanza molto accogliente per spronare le donne vittime di violenza a denunciare è stata inaugurata proprio oggi presso la Questura di Arezzo. Una stanza dedicata alle donne che vorranno denunciare episodi di violenza è stata inaugurata all'interno della Questura di Arezzo con la collaborazione del club Soroptimist di Arezzo. Si tratta di un luogo protetto realizzato all'interno delle caserme dei carabinieri o degli uffici di polizia, in questo caso dentro la Questura di Arezzo, per accogliere e ascoltare le donne e incoraggiarle a rivolgersi alle forze dell'ordine in caso di violenza, abusi e sostenerle nel delicato momento della denuncia. Non è importante, è determinante. C'è un gruppo di ragazzi, io li chiamo così e non di poliziotti, disposti ad ascoltare le vittime fragili in una stanza, ripeto, non asettica, che assomiglia ad una stanza di casa, ad un salotto di casa. Questo sarà importantissimo. Avere un ambiente dedicato e dove sentirsi accuditi, accolti, ma anche liberi di poter parlare è, come diceva il questore, indispensabile per poter far sì che le vittime e i vulnerabili si sentano supportati e colgano l'importanza di questo tipo di attività, cioè il fatto di non essere da soli e di avere al proprio fianco le istituzioni. Il progetto Una stanza tutta per sé nasce a Torino nel 2014 per iniziativa del Club Soroptimist. Oggi in Italia ce ne sono oltre 200 a finanziare quella a retina, il Club Soroptimist di Arezzo. Potrebbe sembrare una cosa negativa dire sono in aumento le denunce, invece è un fatto estremamente positivo, perché noi abbiamo bisogno di fare emergere. L'idea nostra è stata proprio quella di avvicinare, nel 2014 non c'era tutta questa sensibilità, di avvicinare le donne, le vittime di violenza, alle istituzioni, alle forze dell'ordine, per fare emergere questi loro racconti. Perché spesso e volentieri ci dicono che dopo una prima denuncia alcune volte tornano indietro e vogliono cancellare tutto. E questo noi non lo possiamo permettere perché giustamente da un amore che può essere tossico si arriva anche a delle situazioni non solo fisiche ma anche psicologiche. Adesso parliamo di un allarme importante che lancia il presidente delle professioni infermieristiche della Toscana e di Arezzo, Giovanni Grasso. Il turnover dice del personale e le ferie estive sono elementi non certo imprevedibili. Non possiamo rischiare di trovarci in emergenza per carenza di personale infermieristico nei pronto soccorso e nei reparti. Non è certo la prima volta, dice Grasso, che dobbiamo intervenire su questa tematica, ma purtroppo l'esigenza di garantire servizi efficienti ai cittadini passa anche dalla possibilità di lavorare con organici adeguati. Vogliamo dunque fare da pungolo e spronare per far sì che questa priorità si traduca in atti concreti con assunzioni a tempo indeterminato. Siamo alla pagina della politica. La notizia di oggi era nell'area ormai da tempo ma oggi è stata ufficializzata. Il sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, correrà per le prossime elezioni europee. Correrà nelle liste dell'Italia centrale il sindaco di Arezzo Ghinelli che è qui alla mia destra. Il sindaco Ghinelli è un sindaco civico, sostenuto ovviamente da Forza Italia. E' uno di quegli esempi che noi vogliamo coinvolgere nella costruzione di una grande famiglia popolare. Dalle indiscrezioni alla conferma indiretta. Alessandro Ghinelli, sindaco di Arezzo, è candidato alle elezioni europee dell'8 e 9 giugno prossimo per il partito di Forza Italia. L'ufficialità a Roma durante la conferenza stampa nella sede del partito alla presenza del segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani. Ogni candidato è frutto di un lavoro del partito territoriale, del partito nazionale, per dare voce a realtà che rappresentino veramente i territori. Alessandro Ghinelli è un candidato che si presenta come indipendente civico che si riconosce nel partito popolare europeo. Il prossimo anno scade il mio secondo mandato e mi sono domandato, beh insomma, dopo ormai dieci anni di governo di una città, cosa può fare un sindaco per essere ancora utili a una coalizione che è quella di centrodestra. Beh, l'occasione si è prestata adesso, ci sono le elezioni europee, quindi benvenga questa corsa, è una sfida ovviamente per me perché devo uscire dalle mura cittadine e confrontarmi con un territorio molto più grande, un collegio enorme di quattro regioni. Però credo che i temi che la civicità pone siano ben riposti all'interno di questo fantastico partito. Se ci si pensa bene, ci si era detti con Antonio un paio di giorni fa, Forza Italia è stata la prima lista civica d'Italia alla fine quando è nata, no? Quindi raccoglie tutto quello che nella società civile decide a un certo momento di dare un contributo non più soltanto al proprio lavoro ma anche a una fase amministrativa di tipo locale. E allora parlando di elezioni che si terranno l'8 e il 9 di giugno, come sapete ci sono anche le amministrative, sono oltre 20 i comuni dell'Aretino che andranno al voto. Tra le sedie di sindaco un po' più dibattute, un po' più contese c'è sicuramente quella del sindaco di Cortona, anche perché in questo caso i candidati sono ben cinque. Proprio questa sera alle 21 dagli studi di Arezzo TV il confronto appunto tra i cinque candidati, un confronto condotto da Carlo Gabellini. Ne vediamo un piccolo stralcio. Siamo trovati a questo primo appuntamento con la piazza e proprio in piazza abbiamo chiamato i candidati a sindaco, questa volta per il comune di Cortona. È una sfida a cinque, quella per il rinnovo di sindaco e consiglio comunale nel comune di Cortona, Valdichiana-Aretina, uno dei comuni dell'Aretino che va al voto e che superando i 15.000 abitanti potrebbe andare al ballottaggio. Si vota il prossimo 8 e 9 giugno, si contenderanno la poltrona di primo cittadino appunto in cinque candidati, in un clima non proprio sereno. Il sindaco uscente, Luciano Meoni, si presenta con la lista futuro per Cortona, ma a differenza di cinque anni fa non ha il sostegno dei partiti del centrodestra, nemmeno della Lega. Il candidato del centrodestra è invece Nicola Carini che nella legislatura uscente ha ricoperto la carica di presidente del Consiglio Comunale. Credo che una cosa siano i partiti nazionali, i partiti nazionali con i quali ho rapporti giornalieri, sento giornalmente onorevoli di Fratelli d'Italia, di Lega, di Forza Italia, quindi con me hanno rapporti tutti. Dopodiché i personalismi locali certamente sono rimasto male perché evidentemente la Lega che era stata a fianco nostro sin dalla prima ora portando avanti i progetti importanti, riuscendo ad essere determinanti anche nel 2019 quando abbiamo ottenuto un ottimo risultato, beh, questo certamente non sono un'ipocrita, sì, però non è che... Però si va avanti lo stesso. Si va avanti e sicuramente ne vedremo delle belle, sono convinto, il 9 giugno. Anche a sinistra non c'è una piena unità. Il centro-sinistra, il Partito Democratico, il resto della coalizione, socialisti compresi e i Cinque Stelle, sono con Andrea Vignini, già sindaco di Cortona, ma c'è una candidata, Verusca Castellani, che si presenta con la lista Uniti a Sinistra e infine c'è Italia Viva con Sara Baldetti. Io non capisco chi sono questi che sono uniti, me lo dovrà spiegare prima o poi Verusca, perché i partiti della sinistra e del centro-sinistra, forse Rifondazione Comunista, Potere al Popolo, non so chi altro, perché i Verdi non ci sono, Sinistra Italiana non c'è, perché verranno in campagna elettorale a sostenere la mia candidatura. E intanto quindi qui c'è una ambiguità, lo voglio dire con delicatezza, che deve essere sciolta. Nel primo confronto registrato negli studi di Arezzo TV e condotto da Carlo Gabellini, è stata la sanità il tema sul quale i candidati si sono scaldati di più, ma la battaglia è appena all'inizio. La trasmissione integrale andrà in onda venerdì 5 aprile alle 21 su Arezzo TV, canale 81 del Digitale Terrestre. Tutto quello che è stata la politica del PD negli ultimi anni, parliamo per esempio di sanità, un tema a me caro, la sanità, soprattutto in Toscana, è stata quella di depotenziare tutti gli ospedali del nostro territorio. E questa è stata una politica, che ci piaccia o no, del PD. Gli interventi da fare sicuramente sono importanti, cioè da mettersi a sedere con il consiglio di sindaci e fare un task force in regione con l'ASL, con il responsabile ASL. No, perché poi alla fine capisco chi è stato, chi non è stato. A questo punto proponiamo qual è il progetto, operazioni intensive e mirate ad incontri per raggiungere degli obiettivi. I problemi strutturali di una rianimazione non li risolviamo per i costi che ha sicuramente, però ci proviamo a risolverli. Perché quel pronto soccorso deve essere operativo per tre comuni, quindi deve essere funzionale al 100%. Perché, signori, quando andiamo al pronto soccorso non è che ci chiedono la testa del partito. Fortunatamente. Fortunatamente. Ma dobbiamo essere sicuri che da quel pronto soccorso verremo smistati nella zona appunto che ci potrà curare meglio, ma sicuramente, come dire, dobbiamo uscire dal pronto soccorso con le nostre gambe e in maniera efficace ed efficiente. Cosa che qualche volta è successo, alcuni episodi, stiamo qui a scendere nei particolari, dove però c'è stata questa difficoltà. E allora non perdetevi questa sera la piazza speciale Elezioni in onda alle 21 su Arezzo TV e da oggi, per ogni venerdì, appunto, affronteremo i confronti tra i candidati a sindaco dei principali comuni del territorio aretino che, come dicevamo, andranno al voto l'8 e il 9 di giugno. A distanza di alcuni giorni dall'installazione della torre, alta addirittura 36 metri l'antenna della telefonia mobile in via Sicilia, oggi i cittadini hanno accolto la visita proprio nella strada di Laura Boldrini, l'onorevole arrivata ad Arezzo per il flash mob sulla pace che era in piazza Sant'Agostino, ma appunto ha fatto visita anche al sito tanto dibattuto e discusso di questa antenna. Ricordiamo che sono quasi 2000 le firme raccolte dai cittadini proprio per contrastare questa installazione che invece alla fine, insomma, c'è stata. L'onorevole ha espresso dubbi sulle procedure seguite proprio dal Comune sulla mancanza di concertazione. Intanto sul caso è stata presentata anche un'interrogazione regionale da parte dei consiglieri del PD, Vincenzo Ceccarelli e Lucia De Robertis, mentre l'amministrazione comunale, in questo caso rappresentata dal sindaco Ghinelli e dal vice sindaco Lucia Tanti, ha in animo di fissare per i primi giorni della prossima settimana un altro incontro con i residenti. E a proposito di incontri, il gruppo consigliare Scelgo Arezzo, formato dai due consiglieri Marco Donati e Valentina Sileno, hanno presentato oggi gli appuntamenti pubblici organizzati appunto nel territorio. Il primo sarà lunedì 9 aprile alle 21 al centro di aggregazione sociale di Giovi. Continuiamo, hanno detto i due consiglieri, con una formula che si è rivelata vincente durante le occasioni precedenti. I cittadini dimostrano di apprezzare il fatto che siamo riusciti a riportare l'attenzione della politica appunto nei territori dopo la scomparsa delle circoscrizioni. Gli altri appuntamenti saranno poi il 22 aprile al CAS di Indicatore e il 6 di maggio al CAS di Agazzi, entrambi alle 21. Scambio in virtù di un viaggio di studio in Francia tra il liceo Vittorio Colonna e Lione. Il gruppo scolastico italiano e francese di 56 alunni è stato ricevuto in comune dall'assessore Simone Chierici per poi visitare il museo della giostra del Saracino nello scambio. Gli studenti mecenati cureranno la documentazione dell'iniziativa con riprese video e foto. E siamo adesso alla pagina dello sport. Iniziamo con questo vivace scambio, insomma vivace forse a dir poco, tra la curva sud del presidente dell'Arezzo, Guglielmo Manzo. Tutto è partito da un volantino diffuso proprio oggi, firmato appunto da tutti i gruppi organizzati. Presidente Manzo inizia così il volantino. Non ripetiamo gli errori del passato. I gruppi di tifosi hanno chiarito il senso della protesta contro in particolar modo le squadre B messa in atto sabato scorso e su cui avevano espresso le proprie perplessità. E poi è stata ribadita anche la preoccupazione importante per le sorti del settore giovanile. La società ha risposto con un comunicato dicendo che è già stata formalizzata la fideiussione per l'iscrizione al prossimo campionato mentre sul volantino appunto diffuso dalla curva sud è intervenuto il direttore generale Paolo Giovannini. Voglio precisare, ha detto che se la società ha ritrovato la stabilità citata dai gruppi della curva è dovuto ai cospicui interventi finanziari della proprietà. È sbagliato pensare a divisioni fra buoni e cattivi. Tutto quello che decidiamo è condiviso. E allora insomma staremo a vedere. Intanto invece con il prossimo servizio parliamo del campionato mondiale di pesca alla trota. Un grande appuntamento da un punto di vista di pesca ma anche di marketing territoriale che consente a questo territorio di essere per alcuni giorni la capitale mondiale della pesca alla trota con esche naturali. Al via i mondiali di pesca sportiva alla trota con esche naturali in Casentino. Un'intera vallata mobilitata per accogliere sportivi appassionati e turisti. La federazione italiana pesca sportiva è una federazione che all'ambiente tiene e infatti organizza questo campionato di catch and release dove il pesce viene rimesso in acqua quindi non c'è mortalità e soprattutto il rispetto dell'ambiente si vede anche da come sono state curate le sponde e da come è curata la vigilanza in questo particolare campo di gara. Il campo gara sarà il torrente solano a Castel San Nicolò. È un'attestazione di riconoscimento del lavoro che il consorzio fa quotidianamente. Un lavoro di manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua che sa coniugare la riduzione del rischio idraulico con la valorizzazione ambientale. È la prima volta che viene scelta la Toscana per questo campionato mondiale. Il torrente è tenuto benissimo tant'è vero che ultimamente ci sono state fatte parecchie gare nazionali e volevamo approfittare proprio per vedere di poterci portare un campionato del mondo che secondo me il torrente se la merita tutta e le trote come vi dicevo anche. In Casentino sono arrivati team provenienti da vari paesi europei oltre alla nazionale italiana che nelle acque della vallata difenderà il prestigioso titolo conquistato nel 2023 in Croazia. Ho avuto tanto consenso da parte di tutti, dalle autorità, dai pescatori che sono pronti a trovarci. Sono pronti e noi siamo pronti per far sì che questo mondiale sia uno dei più belli della storia della pesca e il trote torrente. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Vi lascio allora con la piazza, speciale elezioni, confronto televisivo condotto da Carlo Gabellini fra i cinque candidati sindaco per il comune di Cortona. Grazie per l'ascolto e arrivederci. Grazie per l'ascolto e arrivederci.